La mia reazione quando ho conosciuto Irene è stata wow! Irene è molto sorridente e ha dato un po' una botta di vita a Marco. Marco è sempre meno sorridente, noi diciamo divertimento medio e Irene è molto solare, molto molto carina. I still can't believe this day is actually happening. The first impression I got of him was, oh he's so kind of you know composed and calm. That's one of the main reasons we click, I guess opposites attract. I'm feeling great, very happy, little bit nervous as well. Looking forward to our wedding and to our life together. I'm so excited. 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 I'm excited. I'm so excited. I'm so excited. I'll be here. I'm so excited. I'm so excited. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!